Il regista danese Tomas Winterberg è uno degli ospiti d'onore del Festival Lumière di Lione, dove è arrivato accompagnato dal suo attore preferito, Max Mikkelsen. Another Round, un altro giro, è il suo ultimo film presentato al festival, uscito in Danimarca a settembre e previsto nelle altre sale d'Europa nel 2021. Euronews è riuscito a intervistarlo. In danese il titolo è druk, una parola intraducibile, in inglese non esiste. L'inglese ha 250.000 parole, il danese solo 50.000, ma abbiamo druk. E' come in Groenlandia, hanno 50 parole per neve, noi invece in Danimarca abbiamo molte parole per bere. Immagino che druk si avvicini a ubriacarsi, ma significa ubriacarsi con classe. E' la storia di quattro amici, insegnanti frustrati, che decidono di vivere la vita con un costante e leggero tasso alcolico. I primi risultati sono buoni, tanto che decidono di fare del loro esperimento un vero e proprio progetto accademico. Peccato che la situazione gli sfugga di mano. Spirito significa più di alcol. E questo film parla di quattro giovani che hanno perso l'ispirazione e combattono per riavere la loro vita. Combattono per avere una vita ricca ed emozionante. Quindi in questo senso il film parla della vita. La vita ricca ed emozionante è una vita ricca ed emozionante. Quindi in questo senso il film parla della vita.